Siamo sul palco, la delegazione del gruppo secondario di secondo grado, liceo artistico statale Bruno Munari di Vittorio Veneto. E si aggiunga il premio assoluto per l'opera Viaggio Plastico, l'autrice è Chiara Trovera. Complimenti, il premio di premio! Vuoi aggiungere qualcosa? Ringrazio il professor Gimignano, la mia caffè e sono molto contento di essere qui. Dopo avrete appunto questo laboratorio workshop con Stefano Babini che è un grande autore italiano che ha lavorato con grandissimi come Pratt, ha lavorato con la Morelli, ha lavorato per Diabolic e tanti altri titoli. e quindi ecco, questo è diciamo un po' il coronamento di un percorso più importante. Foto con Silo, ci mettiamo tutti vicini più avanti. Vieni Andrea! Basta! Chiara al centro! Grazie! Grazie! Allora, io ringrazio tutti veramente questo progetto è un progetto che coinvolge in tante campi del sole. faccio un saluto bene da tutti voi e vi ringrazio davvero per questa incredibile e disiasta partecipazione. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!